hello everyone bonjour a tout le monde et buenos dias a todos amigos e come lo direi in arabo aspettate aspettate me lo ricordo perché io un pochino di arabo lo parlavo quando vivevo in egitto com'era il buongiorno sabal sabal ful sabal ful sadiki sabal ful sadiki che significherebbe buongiorno amico non so il plurale come si dice oh ragazzi se c'è qualcuno che parla egiziano o in generale scrivetemelo vi prego ho voglia di io a me piacerebbe tantissimo tantissimo ricominciare a studiare arabo eh ma potrei anche farlo potrei perché sto fra le mie cose che mi frullano nella testa ci potrebbe pure essere questa ma intanto prendiamo le nostre carte di oggi sulle energie generali quindi prendiamo questa prendiamo questa tutti i vari oracoli tutti i vari tutto prendiamo tutto questa e vediamo che cosa accade la giustizia la grief lo sapete cosa significa grief in inglese così cioè il come una sensazione di rancore una sensazione un po fastidiosa e la caduta e la caduta allora abbiamo o devo dire brutta abbiamo pisciato fuori dal vasino non tutti tutti ma qualcuno lo ha fatto e chi lo ha fatto oggi ne pagherà le conseguenze perché perché il karma funziona così ragazzi perché il karma è una ruota che gira perché non c'entra niente la ruota in questo caso il karma è un muro di gomma che ci fa rimbalzare addosso quello che facciamo nel bene e nel male quindi se abbiamo fatto bene bene se abbiamo fatto male ai 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 turisti fai da te no al pitour la giustizia arriva e ci colpisce inesorabilmente o colpirà qualcuno magari colpirà qualcuno che si è comportato male con noi perché in che modo lo colpisce nel modo migliore proprio nel modo che fa più male con le emozioni cioè la giustizia farà provare emozioni negative a qualcuno che si è comportato male facendogli fare un passo falso che gli provoca un ruzzolone giù per il burrone rotolando insieme a una valanga cioè la caduta proprio la caduta se oggi dovesse succedere qualcosa a noi o a qualcuno che conosciamo sappiate che doveva capitare doveva capitare ed è la conseguenza di qualcosa che era stato fatto prima male ma se invece oggi ci dovesse capitare qualcosa di bello bene vuol dire che ce lo siamo meritato ora qui è anche un po una questione di orgoglio perché questo errore che causerà un ruzzolone una caduta è una brutta figura porterà la persona che cade a sentirsi è proprio una questione di emozioni non saprei come spiegarlo emozioni brutte emozioni di fastidio esattamente ragazzi ve lo dico così che lo capirete esattamente quelle emozioni che voi augurate al vostro peggiore nemico che vi ha fatto del male ecco questo capite questo capite come si sentiranno queste persone che oggi cadono ma adesso andiamo a vedere le altre carte che sono e guarda un po infatti il 2 di denari il 6 di bastoni e il diavolo il diavolo allora quelli che quelli che riusciranno a gestire bene le emozioni negative perché magari o sono particolarmente bravi a resistere ai colpi oppure non oggi non avranno cose negative non risentiranno di un colpo contra colpo carmico oggi saranno bravissimi a gestire con il 2 di denari saranno bravissimi a gestire la situazione bravissimi a gestire tutto e spiccheranno nella loro capacità di gestire tutto mi spiego meglio supponiamo che oggi qualcuno tenti di tirarvi un brutto colpo supponiamo che oggi qualcuno provi a farvi lo sgambetto qualcuno che ce l'ha con voi prova a farvi lo sgambetto ma voi o siete bravi perché vi preparate siete pronti ve lo aspettate o magari voi non avete fatto nulla di male quindi l'universo vi appoggia nel sapere come comportarvi nel sapere schivare questo sgambetto quello che succede è che voi siete bravissimi a gestire la situazione gli altri vi vedono spettacolari con un'energia formidabile che supera ogni ostacolo e quindi tutto vi andrà alla grande ma proprio tutto vi andrà alla grande e questo diavolo se la passerà maluccio e questo diavolo anche se anche se questo diavolo per qualcuno di noi potrebbe significare che il il danno se lo becca qualcun altro cioè la persona che voleva fare lo sgambetto io direi che non è per niente male come situazione per niente poi ovviamente sta a noi e dipende da noi realmente che cosa accadrà ma a questo punto vi chiedo di scriverci nei commenti che cosa vi sta succedendo oggi o in questi giorni o magari cosa sta succedendo a qualcuno di cui conoscete le disgrazie e le disavventure così vediamo e cerchiamo di capire ad ogni modo la soluzione sembra proprio quella farvi trovare preparati con una bella energia se avete una bella energia non vi tocca nulla ma passiamo ora al nostro sacro maschile al nostro sacro femminile che non vuol dire uomo non vuol dire donna sono solo energie che ciascuno di noi indipendentemente da sesso o sessualità sta canalizzando e se non parlano di amore perché non tutti siamo innamorati o stiamo vivendo una love story possono parlare comunque di relazioni in generale e ci descrivono ciò che accade all'interno di una relazione che in questo momento per noi è abbastanza rappresentativa e significativa dunque prendiamo le nostre tre carte per il maschile tre carte con un oracolo ok caro maschile caro maschile bello 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 mettersi in mostra carta degli amanti asso di denari e 4 di bastoni se c'è una scelta che deve essere fatta o se c'è una scelta che verrà fatta in questo momento è quella di rimanere dove si è e di iniziare le cose nuove proprio lì dove siamo quindi questa è una scelta che è una scelta comoda devo dire che per il maschile è una scelta comoda e non sto dicendo giusta o sbagliata perché le carte non ci danno indicazioni sul fatto che sia giusto o sbagliata corretta o non corretta le carte ci dicono però che funziona che ha un effetto perlomeno sul breve tempo a breve termine ha un effetto positivo apparentemente molto positivo tanto che ci mette proprio in mostra mette in mostra certi aspetti del maschile certe capacità del maschile una certa bravura nel fare qualcosa o nell'essere nell'apparire in un certo modo nell'apparire persone coerenti persone concrete persone che sanno quello che fanno con i piedi per terra che si sanno gestire quindi ecco una scelta è vero che è una scelta comoda ma allo stesso tempo non bisogna è una scelta comoda e credo che sarà una scelta quasi automatica cioè nel momento in cui si presenterà di fronte l'opzione o si presenteranno di fronte le diverse opzioni sarà quasi automatico per il maschile scegliere quella che è più facile più semplice e più immediatamente applicabile quella soprattutto che garantisce il risultato migliore vediamo invece per il femminile che cosa accade o come agisce in questo momento il femminile allora abbiamo una due tre con un oracolo anche qui guardate un po qua c'è l'illuminazione proprio qui c'è qui c'è all'improvviso capire tutto all'improvviso femminile capisce tutto non si sa che succede non si sa da dove arriva questa illuminazione ma capisce tutto ed ecco che il femminile risponde alle scelte del maschile e alle azioni del maschile in modo molto positivo qui c'è un femminile contento della scelta fatta dal maschile oh beh ecco bello bello quando è così è bello perché si va d'accordo perché si è sulla stessa lunghezza d'onda perché forse il maschile ha fatto la scelta più semplice ma magari la scelta più semplice era anche quella che il femminile si aspettava e che desiderava e che cavolo e che ci vuole se fosse sempre così semplice nella vita mannaggia ecco qui c'è un femminile che in effetti è contento è contento e al questo femminile ritorna proprio una sensazione che non provava da tempo cioè il femminile era da tempo che aveva era pieno di incertezze pieno di insicurezze pieno stava sul chi va là e invece no adesso con questa cosa che sta accadendo all'improvviso il femminile sale di vibrazione proprio sale di frequenza inizia a brillare si illumina perché sente delle emozioni belle positive ma non solo allo stesso tempo il femminile capisce comprende certe cose che magari fino a ieri non vedeva bene c'è solo un elemento di imperfezione in questo quadro perfetto e utopico ed è normale che sia così perché siamo sul pianeta terra e nulla è perfetto sul pianeta terra il nove di bastoni e cioè c'è ancora un piccolo elemento che per il femminile andrebbe aggiustato andrebbe fatto meglio c'è ancora un piccolo elemento che potrebbe appunto migliorare che potrebbe qualcosa che manca una piccola cosa che manca si tratta vi posso anche dire si tratta di un qualcosa che il femminile vuole da tanto tempo però nel momento in cui comunque arriva qualcosa di bello ecco il femminile non sta lì a rompere le palle a dire però manca quello no cioè si gode il presente si gode quello che c'è finalmente e non rompe le palle su quello che invece non c'è e preferisce o meglio capisce che può anche lasciare andare che può anche mettere di lato le insoddisfazioni e piuttosto che essere iper preciso essere felice di ciò che ha di ciò che sta avendo di quello che sta succedendo godersi le emozioni del momento perché con queste due carte si parla proprio di emozioni si tratta proprio di pienezza emotiva tra l'altro breve digressione per i miei studenti qui abbiamo un 10 più un cavaliere che porta una coppa quindi in realtà questo è come se fosse un 11 cioè un numero maestro quindi un'energia anche molto intensa e molto potente adesso andiamo a vedere per ultimo qual è il consiglio delle nostre carte per oggi vediamo appunto cosa hanno da consigliarci sul come gestire le energie oggi o in questi giorni non so se ve l'ho già detto ma se volete una lettura privata o un pacchetto con life coaching analisi karmica delle vite passate potete prenotare o dal sito oppure contattarci stessa cosa se siete interessati ai video corsi di tarologia di magia d'amore all'accademia insomma qualunque cosa scrivete chiamano chiamate no scrivete e poi vi richiamiamo noi ok il consiglio è sette di coppe e ruota della fortuna queste carte ci invitano a guardare più opzioni a non essere troppo rigidi ma a valutare valutare varie cose tenere la mente aperta soprattutto perché in effetti alla fine la cosa la scelta migliore o la situazione migliore potrebbe essere proprio quella che ancora non ci aspettiamo e con la ruota della fortuna in effetti qualcosa di inaspettato potrebbe arrivare ma quando arriva lo riconosceremo e sarà quello il momento più giusto è più adatto per fare la scelta quindi con queste carte ragazzi io come sempre spero di esservi stata utile vi auguro una splendida giornata una buona colazione un buon lavoro un buon viaggio per chi sta andando al lavoro e ci vediamo alla prossima ciao